ciao benvenuti e benvenuti in un nuovo video come avete visto al titolo oggi parliamo di autodidatti come si studia e come ci si può correggere in quanto autodidatti allora partiamo subito dalla definizione secondo la treccani l'autodidatta è chi ha imparato da solo una disciplina un'arte un mestiere senza frequentare una scuola o un maestro secondo invece oxford languages l'autodidatta è chi ha realizzato per proprio conto al di fuori di ogni curriculum scolastico una propria istruzione generica o specifica secondo me nella definizione di autodidatta possiamo trovare diversi tipi in realtà di formazioni e non formazioni perché l'autodidatta più estremo è quello che vive isolato sul cucuzzolo di una montagna non riceve influenze esterne di nessun tipo e quindi tutto ciò che fa a livello di disegno e pittura l'ha trovato solamente tramite le proprie forze attingendo solo a se stesso ora calato in un contesto un po' più moderno secondo me l'autodidatta è chi non ha ricevuto una formazione specifica che può essere una scuola d'arte o un maestro in particolare ma che invece si è formato da solo in quel da solo però ci sta anche un'influenza degli artisti esterni perché comunque non viviamo isolati quindi guardare gli altri imparare dagli altri anche secondo me frequentare qualche corso qua e là e qualche workshop qua e là ti lascia comunque un'autodidatta perché perché non hai acquisito un metodo specifico e coerente come ti può dare una buona scuola d'arte ma invece hai ricevuto diverse influenze che poi per forza di cose devi mettere tu insieme devi essere tu a fare quel processo di creazione di un metodo attingendo a tutte le tue fonti ora magari non tutti saranno d'accordo con questa definizione potremmo dire che questo è un semi autodidatta perché comunque ha imparato dagli altri come vi pare io penso che i contenuti del video possano essere vari di lo stesso sia che parliamo di autodidatti puri sia semi autodidatti però ecco secondo me la discriminante un po' è questa cioè la l'applicazione di un metodo poi anche chi ha seguito una scuola d'arte magari andrà ad elaborare a trasformare ad arricchire il metodo che ha imparato però è una prima formazione su cui si basa e soprattutto ha ricevuto una guida questo secondo me è molto importante perché l'autodidatta vero e proprio non ha ricevuto una guida quindi ha dovuto vestire i panni se stesso della propria guida e questa non è una cosa proprio facile che ha sicuramente anche dei limiti quindi se il non autodidatta ha seguito una scuola l'autodidatta come fa a studiare come studia come impara come cresce tornando ai diversi tipi di autodidatta secondo me bisogna conoscere se stessi come artisti e capire se si può beneficiare di corsi sparsi quindi non di una scuola unica o se invece si preferisce andare per la propria strada senza alcuna influenza esterna ci sono infatti quegli artisti che preferiscono così preferiscono andare completamente per proprio conto ed è una cosa assolutamente rispettabile secondo me vorrei comunque consigliare di prendere in considerazione i corsi tecnici che che vuol dire corsi tecnici i corsi tecnici sono quei corsi che non ti insegnano una maniera di utilizzare i materiali nello specifico ma la maniera base e quindi c'è soprattutto un focus sui materiali se per esempio sei un artista che utilizza la penna e vuole esprimersi unicamente con la penna il pennino nero sulla carta si potrebbe eseguire un corso base sul disegno a penna su carta perché un buon corso base ti spiega i materiali che sono i migliori per quella tecnica quindi quali saranno le carte adatte quali saranno le penne le marche magari migliori e quindi secondo me qui non c'è niente da perdere i corsi non tecnici invece sono quelli che ti insegnano a dipingere alla maniera di qualcuno quindi non pariamo come si dipinge ad olio base ma impariamo a creare ritratti ad olio alla maniera di questi anche sono dei corsi da cui si può sicuramente imparare moltissimo per me per esempio sono molto stimolanti però cerco di variare molto di non seguire troppi corsi di questo tipo della stessa persona dello stesso artista perché non vorrei neanche finire per assomigliargli troppo questo è un pericolo che secondo me appartiene di più al non autodidatta nel senso che il non autodidatta rischia molto di più di assomigliare al proprio maestro perché se ha ricevuto un solo metodo bello costruito solido è normale utilizzare quello se funziona ma è anche molto facile poi assomigliare appunto al proprio maestro poi sta lì la capacità del singolo artista a uscire da quel metodo uscire da dall'applicazione didattica di quel metodo ma a elaborarlo e farlo proprio però diciamo che invece l'autodidatta proprio perché si forma seguendo o solo se stesso oppure diverse moltissime fonti diverse secondo me è più facile che riuscirà a fare un'elaborazione più creativa di queste diverse fonti poi queste fonti di apprendimento le possiamo anche dividere in due categorie che sono quelle gratuite e quelle a pagamento io per esempio per tantissimi anni della mia formazione ho usufruito solo di fonti gratuite e erano soprattutto video soprattutto video qui su youtube oppure dirette e mi ricordo delle dirette in particolare di un artista di un insegnante molto molto brava che si chiama Istebrac che ancora adesso credo faccia le sue dirette in inglese lei mi ha insegnato moltissimo perché non soltanto è molto brava e ha una grande comprensione secondo me della della forma e delle basi che servono per imparare a disegnare in maniera realistica ma anche il fatto che è così costante mi ha dato una disciplina e su questo ci torniamo tra poco quindi io sapevo che lei due volte due sere a settimana faceva queste dirette in cui correggeva i lavori dei suoi allievi e tramite queste correzioni io ho capito moltissime cose quindi non erano non era un corso pratico per dire non disegnavo insieme a lei ma attraverso queste critiche queste manipolazioni e correzioni di immagini altrui ho capito moltissime cose questo per darvi un'idea della diversità anche delle fonti non esistono soltanto i corsi youtube è un mondo sconfinato di tutorial ovviamente la cosa difficile poi è districarsi attraverso questa anche mole sempre più grande di contenuti e quindi capire quali sono quelli validi e quelli non però questo fa parte un po delle peripezie dell'autodidatta riuscire a scovare i bravi insegnanti in mezzo a tutto questo marasma e seguirli poi anche con costanza accanto a questi contenuti poi ci sono quelli a pagamento io personalmente periodicamente mi segno a qualche corso o patreon o workshop perché è bene secondo me a qualsiasi livello mettersi in discussione e tornare nei panni dello studente anche se sono insegnante perché tengo dei corsi so che ho moltissimo ancora da imparare e quindi continuo la mia formazione affidandomi a chi ne sa più di me e questo penso che non finirà mai oltretutto è anche un modo per sbloccarsi per stimolarsi per anche non sentirsi in stallo che secondo me è una condizione anche questa che è un po propria aiutodidatti proprio perché non hanno quella guida costante devono crearsi anche gli stimoli ora la disciplina avevo menzionato prima questo perché è fondamentale perché nella scuola d'arte o presso una bottega c'è qualcuno che ti dice esattamente quello che devi fare per quando lo devi fare come lo devi fare eccetera se tu non hai quel tipo di formazione devi importi da solo da sola una disciplina come motivarsi questo potrebbe aprire tutto un altro capitolo però credo che la fonte principale di motivazione sia la voglia di imparare la voglia di migliorare e createvi magari degli obiettivi più concreti se vi sono utili come questo mese voglio creare tot dipinti oppure voglio partecipare a questa sfida e finirla può anche essere utile e molto bello se avete un gruppo di amici con cui condividete questa passione motivarvi a vicenda e quindi anche creare delle situazioni in cui si dipinge insieme tutte le idee che vi vengono in mente per motivarvi e per crearvi una disciplina sono ben accette a qualcuno può essere utile crearsi proprio una routine settimanale quindi dedicare dei giorni specifici o degli orari specifici alla pratica artistica perché in effetti se si lascia troppa flessibilità questo il rischio è quello di rimandare e che poi il tempo sfuga di mano e non riuscire a fare i progressi che ci siano prefissati quando si seguono dei corsi online soprattutto la difficoltà o quando non si seguono corsi affatto la difficoltà è quella di capire come migliorarsi non c'è nessuno che ti corregge quindi siamo da soli con i nostri lavori e non sappiamo bene come intervenire dove intervenire e a volte anche perché qualche consiglio che posso darvi su questo allora alcuni sono super gettonati già conosciuti ad esempio se il nostro disegno lo mettiamo di fronte a uno specchio questo ci cambierà completamente lo sguardo nel senso che l'occhio si abitua ai difetti mentre disegniamo perciò un disegno che noi abbiamo fissato per mezz'ora non saremo più in grado di capire quali sono gli errori se invece lo mettiamo davanti a uno specchio visto che c'è l'immagine riflessa è come un'immagine nuova e quindi possiamo dare uno sguardo nuovo rinfrescato e capire con molta maggiore facilità dove sono gli errori parlo di errori se vogliamo riprodurre qualcosa di realistico ovviamente allo stesso modo possiamo fare una foto al nostro disegno la foto funziona perché vediamo il lavoro in piccolo perché poi la vediamo sullo schermo del telefono o della fotocamera quindi vedere l'immagine molto piccola farà saltare molto più facilmente all'occhio quali sono di nuovo le sproporzioni oppure gli errori di composizione in ogni caso ci darà una visione di insieme che ci permetterà di valutare di nuovo con occhi nuovi il nostro lavoro un altro metodo è quello di cui ho parlato in questo video cioè di utilizzare un foglio trasparente per controllare per confrontare il nostro disegno con le immagini di riferimento e questo è un metodo secondo me molto buono perché ci dà non ci dà un'idea vaga di cosa abbiamo sbagliato ma ci fa vedere esattamente cosa abbiamo sbagliato poi c'è una variante cioè disegnare direttamente sul foglio trasparente come io ho fatto di recente per degli studi di teschio di semplificazione che stavo facendo disegnare direttamente sul foglio trasparente ancora più rende ancora più immediato questo confronto con le immagini di riferimento e quindi capire esattamente dove si aveva fatto un errore lo si può si può sovrapporre questa carta trasparente direttamente sullo schermo anche se non abbiamo stampato l'immagine quindi secondo me è comodissimo poi considerate che anche in una scuola d'arte anche quando si sta presso un maestro non è che lui sta sempre lì tutto il tempo a controllare e a dirvi che errori avete fatto quindi comunque essere in grado di correggersi da soli è una capacità che secondo me andrebbe sviluppata a priori e in ultimo non rifugire al confronto con gli altri capisco che confrontarsi con gli altri possa portare molto spesso a una sensazione di insoddisfazione di inferiorità ma non deve essere questo tipo di confronto deve essere guardo questa persona guardo questo artista e cerco di capire cosa mi piacerebbe che appartenesse anche al mio modo di dipingere con il confronto è più facile identificare degli aspetti specifici che si vorrebbero appunto incorporare che si vorrebbero imparare uno strumento che secondo me è molto importante per gli autodidatti è lo sketchbook il taccuino un quaderno dove esercitarsi perché il quaderno perché il taccuino perché i fogli sparsi intanto sono fogli sparsi quindi è più difficile tenerli sempre nello stesso punto è meno frequente che ci mettiamo a sfogliarli mentre il taccuino viene proprio spontaneo mettersi a sfogliare le pagine e questo è utile perché ritroviamo molto più facilmente il filo del discorso abbiamo preso degli appunti quindi ce li rileggiamo insomma ci dà più un senso di percorso e poi ci mette proprio nella disposizione d'animo di studiare il taccuino è proprio per sua definizione uno strumento di studio in cui io studio faccio degli schizzi e non faccio i dipinti che devo esporre vendere eccetera ho fatto diversi video sull'importanza del taccuino ve li lascio qua sotto in ultima analisi se siete autodidatti o state per diventare autodidatti che li abbiate scelto o che vi ci siate un po' ritrovati il mio consiglio è quello di non precludervi la possibilità di imparare da diverse fonti più saranno le vostre fonti più sarà anche vostra e personale personalizzata la vostra formazione e poi ricordatevi la distinzione tra corsi tecnici e corsi non tecnici l'importanza di conoscervi come artisti quindi di capire se vi fanno bene o no i corsi i tutorial eccetera l'importanza di darsi una disciplina per stare un po' come a scuola e quindi riuscire a raggiungere degli obiettivi specifici vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate su questo argomento che lo so che è un argomento complesso e si possono avere idee anche molto diverse vi invito a esprimerle con educazione io vi ringrazio per aver seguito fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti